Edoardo Masciangelo, quando è dura stare senza calcio giocato? No, è dura perché insomma è quello che facciamo fin da quando siamo piccoli, è la mia passione, però diciamo che è stato un periodo di riposo che ci è servito per rifiatare, per prendere un attimo le forze che ci mancavano dell'ultimo periodo, insomma, e adesso siamo al top della forma e vogliamo dare il massimo. State lavorando duramente in questa settimana di ritiro invernale, qual è lo stato d'animo anche della squadra dello spogliatore? No, stiamo lavorando molto bene, lo stato d'animo è molto positivo, diciamo tutti quanti abbiamo tanta voglia di lavorare, di fare, stiamo andando molto forti, i allenamenti sono molto intensi, quindi c'è un grandissimo spirito e questo fa piacere. Tra poche ore inizierà la settimana che porterà la gara con la Salernitana, si torna in campo, prima gara del 2020, obiettivo vittoria anche per riscattare quella brutta sconfitta nella gara d'esordio? Ci stiamo allenando per dare il massimo, ci stiamo impegnando tutti i giorni, quindi sicuramente scenderemo in campo con Coltello Fredenti per dare il massimo e cercare di vincere sicuramente. Salernitana, squadra ostica, Giampiero Ventura in panchina, gara tra l'altro molto sentita dai tifosi del Pescara, obiettivo vittoria neanche a dirlo? Noi faremo il possibile, sicuramente quello lavoreremo in settimana ad una venta e ce la metteremo tutta, seguendo i consigli dell'allenatore e poi vedremo come andrà a finire. Siamo in pieno calciomercato, trattative che non ti riguardano direttamente, però come si lavora? Sapendo che ci sono dei compagni, dei ragazzi che oggi potrebbero essere qui a pescare e domani no. Guarda, onestamente il gruppo, come ti dicevo prima, è molto carico e stiamo lavorando con grande intensità, al di là del fatto che ci possa essere magari qualcuno che parte o chi deve restare. Quindi questa è una cosa molto positiva e questa sosta ci ha fatto bene, come dicevo, per rifiatare e per rientrare dopo la sosta ancora più carichi. Si è chiuso il girone d'andata, che voto daresti ad Edoardo Masciaggio? Io più che voto sono contento di poter dare un contributo alla squadra, io cerco sempre di mettere tutto in campo, di essere un giocatore eclettico al servizio della squadra, quindi il fatto di aver partecipato a delle partite con la squadra e aver permesso di poter ottenere qualcosa di buono mi rende orgoglioso. Quindi spero un voto positivo e spero di continuare così e di poter dare sempre una mano alla squadra.